Due mesi di dure battaglie, di dure battaglie non solo con gli avversari ma anche nella nostra squadra perché se vi ricordate le prime parole che ho pronunciato quando sono arrivato a Mantova appunto dicevo che dovevamo creare una squadra, era un gruppo ma bisognava farla diventare squadra, bisognava mettere delle regole, delle gerarchie e la squadra poi si doveva riconoscere in questo dove l'imprinting difensivo doveva essere il volano di tutto e devo dire che dopo due mesi la squadra oggi è una squadra, l'ha dimostrato perché poi dopo in campo i giocatori hanno messo dentro chiaramente la volontà, la determinazione, il carattere e questo poi dopo ti porta inevitabilmente al successo, quindi se io quindi ricordo questi due mesi dico che sono estremamente soddisfatto e penso che lo dobbiamo essere tutti e per questa ragione i complimenti vanno ai ragazzi perché non è stato facile, in tante circostanze io ho rotto i coglioni, probabilmente gliene romperò ancora, però penso che bisognava un po' intervenire, ma loro sono stati bravi sinceramente anche a seguirmi perché le cose non si fanno mai da soli, le cose si fanno sempre insieme e credo che abbiamo creato una comunione di intenti partendo dal club, attraverso l'allenatore, finendo dalla squadra dove questa linea l'abbiamo messa abbastanza chiara, dritta e stasera sinceramente raccogliamo questi frutti e ci godiamo una salvezza che qualche settimana fa ci sembrava oggettivamente un qualche cosa di molto più complicato.